Ben ritrovati a tutti. Siamo ancora nella sosta per le nazionali, ma farò un video a parte per quello, perché in questi giorni sono particolarmente arrabbiato. Innanzitutto un augurio di pronta guarigione a Sanchez e speriamo si possa riprendere presto. Perché sono arrabbiato? Perché con questa notizia qui qualcuno ci ha marciato sopra. Vero ma strangelo? Perché vantarsi il giorno prima di affermare che c'erano dei problemi con Sanchez, adesso lì non si capiva in quel momento se fosse un infortunio o altro, è una cosa che per me non sta né in cielo né in terra. Perché già con Samarzi ce l'avevi fatta fuori dal vaso, facendo praticamente tu l'intermediario. E adesso con questa situazione qua ci marci nuovamente sopra. Sei un destabilizzatore, sei un parassita, non fai il bene dell'Inter. Cioè ma ci pensi dieci volte prima di dire certe cose? Ah no, perché prima vengono i tuoi interessi e poi viene l'Inter. Noi che ci mettiamo in gioco su YouTube o comunque sugli altri social pensiamo prima a questo, al logo sul petto, sul cuore, quello che amiamo alla follia. Non pensiamo agli interessi e io andrò contro a gente come te. Va bene? Ma la cosa che mi fa più arrabbiare è che non c'è un dirigente o comunque un addetto alla comunicazione. Che blocchi sto elemento qua? Perché già i media non sono andati tanto piano con quello che è uscito fuori dall'interno. Se ci mettiamo anche noi YouTuber siamo messi proprio bene, eh? Per cui io spero che l'Inter blocchi questa persona. Perché non è lui quello che deve dire queste cose. Perché caro Mastrangelo, fai quello del io conosco le persone però non parlo però poi lo fai. Intorti i quindicenni, non uno come me che ha quasi 30 anni, per i tuoi tornaconti. Ma che interista sei? Vai a fare altro. Perché io trovo vergognoso che uno YouTuber faccia quello che fa lui. Ovvero sia approfitta delle conoscenze, dice le cose su YouTube e con quelle cose lui ci mangia e ci marcia sopra. Cioè ma ragazzi apriamo gli occhi. Questi non sono interisti, questi sono solamente dei parassiti. Gente che praticamente specula sull'Inter. Ed è una cosa che mi manda in bestia. E anche lì, ancora più in bestia ripeto, è il fatto che la dirigenza o comunque un addetto alla comunicazione non faccia nulla. Bisogna essere un bunker. Non dobbiamo far uscire tutto come se niente fosse. Lo diceva Spalletti tanti anni fa e lo ripeto io oggi. Va bene? Per il resto ragazzi, diffidate da questi qua, diffidate da questi soggetti che pensano solamente a loro stessi, che voi reputate interisti. E anche lì cercate di aprire gli occhi su come stanno le cose. Perché non è normale in primis che questo faccia quello che ha fatto con Samaric e ora con Sanchez. Sono cose troppo delicate e che nessuno dica niente in dirigenza è ancora più assurdo. Dirigenza intera, comunicazione, cerchiamo e facciamo qualcosa. Perché così non si può andare avanti. Va bene? Io sono un tifoso come tanti, che magari ha fatto l'errore di affezionarsi a qualche giocatore e l'ha presa in quel posto. Però ho sempre messo questo in primis davanti a me. In primis davanti a tutto. Perché l'Inter è il carro. Ok? E questa gente non fa parte del carro. I Mastrangelo, i Bergomi, gente che specula su di voi, ma soprattutto sull'Inter. Va bene? Detto questo ragazzi, sempre Forza Inter. Seguite la pagina per altri contenuti. Aprite gli occhi.